ancora buongiorno una buona giornata siamo insieme news cappuccino brioche 6 30 del mattino puntualissimi diamo il benvenuto anche alle persone che invece ci seguono nella replica poco più tardi questa è la rassegna stampa che appunto andiamo a fare tutti i giorni sfogliando digitalmente i quotidiani in edicola e poi con la possibilità di interagire come diciamo sempre benvengano i vostri messaggi commenti saluti ma anche considerazioni al numero 327 94 39 574 diamo un buongiorno anche a chi è in regia come sempre del resto tiziano campigotto buongiorno e buon lavoro a lui che si occuperà della parte tecnica andiamo subito con la notizia della notte prima ancora dell'analisi proprio delle prime pagine per quanto riguarda invece un aggiornamento circa una scossa di terremoto in friuli venezia giulia sentita nettamente dalla popolazione non solo locale ma nell'intera provincia udinese fino al medio friuli stiamo parlando di una scossa andiamolo a leggere allora insieme il comunicato per quanto riguarda le tante chiamate alle centrali dei vigili del fuoco allora abbiamo avuto questo terremoto di magnitudo 3.7 avvenuto nella zona a 5 chilometri sud est a zuglio in provincia di udine insomma tra i comuni proprio vicini tratto il mezzo e zuglio alle 2.28 con coordinate proprio ad una profondità di 13 chilometri diverse come si diceva le chiamate alle centrali dei vigili del fuoco sono in corso tutte le verifiche per eventuali danni ma al momento si scongiura quindi non si registrerebbero persone ferite tanti messaggi giunti anche alla nostra redazione da parte ancora di telespettatori che testimoniano di aver percepito nettamente la scossa di terremoto anche sui social un tantam tanti centinaia i post con la segnalazione soprattutto dalle zone di montagna ma non solo questa che una news in aggiornamento lo ricordiamo per chi si fosse appena sintonizzato abbiamo avuto questa notte alle 2.28 tra zuglio e tolmezzo esattamente a 5 chilometri sud est da zuglio in provincia di udine una scossa di 3.7 al momento non si registrerebbero comunque feriti sono in corso di valutazioni eventuali danni così come riferito dalle sedi dei vigili del fuoco allora partito con questo aggiornamento in diretta andiamo allora subito in ordine con le prime pagine quotidiani della regione freuli venezia giulia andiamo per quanto riguarda un po tra virgolette questa sentenza perché ieri arriva la news circa i giudici ai sanitari novax che disco e che dicono è giusto l'obbligo della vaccinazione ormai non c'è più discussione su questo ho tolto ogni dubbio consiglio di stato respinge l'istanza presentata da medici infermieri proprio della nostra regione l'obbligo vaccinale quindi per il personale sanitario è legittimo non solo per tutelare i più vulnerabili durante l'emergenza pandemica ma il legislatore ha aggiunto il dover promuovere anche se necessario imporre proprio la somministrazione nell'unica terapia quindi in grado di prevenire la malattia o quantomeno scongiurare i sintomi gradi gravi dovuti al covid-19 di arrestare o limitare fortemente il contagio così come abbiamo letto insieme se vi ricordate lunedì mattina anche nelle pagine dei quotidiani nazionali come l'istituto superiore di sanità diceva che si riduca proprio di 20 volte la possibilità di finire in terapia intensiva una volta vaccinati tutto questo andiamo oggi a svilupparlo ma lo apprendiamo proprio in prima pagina nel messaggero veneto proseguiamo perché invece abbiamo la foto sotto distrutto il mais transgenico ma fidenato annuncia vado avanti giorgio fidenato lo vediamo proprio qui a sinistra e leandro taboga sfogliano le pannocchie giunte quasi a maturazione qualche decina di metri più in là carabinieri personale della questura forestale di tercento presidiano l'accesso al campo di laibacco seminato a mon 810 ma è strangenico che il ministero appunto ha ordinato di distruggere la spalla di sinistra ci porta invece ancora a parlare delle manovre del nostro governo ci sono tanti nodi da sciogliere la riforma delle pensioni è uno di questo lo stop dei sindacati alla quota 102 104 notizia che occuperà anche le prime pagine nazionali le ipotesi come cambierà la previdenza così si uscirà dal lavoro altre considerazioni poi arriva la proroga al 2023 circa le riserve dei costruttori e artigiani per quanto riguarda il bonus 110 per cento che ha avuto un proprio boom circa il suo utilizzo nel nostra non solo regione ma nell'intera nostra nazione andiamo con la tragedia a scuola cosa succede a un malore proprio al cambio dell'ora in classe alle scuole medie muore un professore di 62 anni a tarcento vediamo allora l'immagine anche dell'uomo avremo poi spazio anche per approfondire questa triste notizia che prendiamo dal giornale addio anche alla pediatra teresa de monte era volontaria in iraq sotto manca l'autorizzazione stop ai tamponi ma pure una multa per il pass di udine taglio alto invece del messaggero chiude la prima pagina per quanto ci riguarda al momento dalle portatrici carniche alle foib e scontro con l'assessore gibelli per questo il nino maraviglia torna in friuli sanchez vignaiolo nel cividalese andiamo allora e diamo il buongiorno edizione del 21 ottobre 2021 queste news cappuccino in brioche andiamo con il gazzettino che oggi va ad approfondire i disagi la preoccupazione circa i trasporti la mancanza ancora l'assenza di troppi autisti non vaccinati e dice è emergenza è pronto un piano urgente per intracciare autisti e mezzi casi di riposo inoltre la terza dose in ritardo e le visite dei parenti sono di nuovo a rischio a trieste aspetta un'altra ondata di proteste temi violenti il prefetto valenti poi vedremo si dice preoccupato venerdì potrebbero arrivare in città trieste per un corteo almeno 20 mila persone intanto però nel capoluogo giuliano sempre a trieste ci sono troppi contagi e meno vaccinati rispetto ad altre zone approfondiremo anche questa notizia per grazie proprio a riccardo riccardi che di oggi proprio vengono raccolte tutti i dettagli circa questa trend miliardi in friuli ecco le priorità nuovi patti finanziari con il governo la sanità ottiene subito i finanziamenti e invece torniamo con il dramma alla scuola il prof che muore dopo la lezione lo shock proprio tra i suoi studenti si chiamava paolo batello aveva 62 anni si è sentito male proprio nella scuola media di tercento si è accasciato a terra e ha perso la vita con ogni probabilità dovuto malore ad un infarto centropagina abbiamo l'immagine nel gazzettino ci parla di serie a l'argentino che pensa all'atalanta sotto la foto vediamo il titolo possetto vuole rendersi più utile ancora la sentenza è proprio la news che abbiamo con la quale abbiamo aperto la rassegna stampa di oggi legata ai sanitari non vaccinati che hanno fatto un ricorso ma il consiglio di stato lo ha nettamente bocciato sono stati sconfitti anche in ultimo grado quindi l'obbligo vaccinale per i sanitari è legittimo per coloro che lavorano proprio nelle strutture sanitarie lo spiega bene anche lo il quotidiano salute liste d'attesa la riabilitazione torna in linea mentre invece torna il in giardin grande il luna park a udine rivive la tradizione ma sarà obbligatorio il green pass quest'anno per andare sulle giostre dopo lo stop dello scorso anno piazza primo maggio luna park fiera di santa caterina saranno accessibili esclusivamente con il certificato verde la storia abbiamo eros del longo una vita il comando della polizia proprio tra passato e futuro andiamo con il piccolo ancora prime pagine per l'informazione regionale si parte proprio dai due presidenti tra gorizia e nova gorizia l'abbraccio dei presidenti titola il quotidiano di trieste mattarella e pago all'ampras alpina per la capitale europea della cultura che unisce italia e slovenia centropagina si torna ancora sull'argomento proteste no pass no vax a trieste prefetto annuncia valenti attesi 20.000 persone in corteo a trieste e abbiamo secondo fonti di polizia il rischio di infiltrati si parla pure di black bloc persone pronte ad una guerriglia urbana trieste che arriverebbero da fuori regione se ne parla molto oggi nel quotidiano il piccolo noi però andiamo avanti ci spostiamo con le cronache in città andiamo sulla spalla di destra gli aspiranti assessori conferme debutti per dieci posti in ballo vediamo ancora l'immagine sorridente del rieletto sindaco e roberto di piazza e poi invece muggia il vice sindaco carnevale 22 tra istria e venezia riferisce i cent'anni di storia del bar venire in piazza goldoni e si chiude con la barca di 11 metri che è stata rubata pensate nel cuore della notte nel porto di grignano senza che nessuno se ne accorgesse sono riusciti quindi a fuggire con questa imbarcazione di notevoli dimensioni andiamo ancora un paio di minuti circa con l'informazione nazionale chiudiamo così il capitolo delle prime pagine corriere della sera che oggi apre con i vaccini l'italia va veloce dice draghi ancora riporta siamo sopra la media dell'unione europea ma soprattutto grazie a chi ha vinto le esitazioni oggi draghi spezza così questa lancia a favore anche di chi si è fidato di chi appunto è dalla parte della scienza e senza esitazione si è sottoposto alla vaccinazione che appunto porta l'italia anche in una buona posizione rispetto all'intera unione europea spalla di destra il vertice a roma i tre leader del centro destra sia il maggioritario e uniti al colle l'avevamo visto in questi giorni come salvini meloni avrebbero appunto incontrato silvio berlusconi dopo l'esito e l'analisi tra l'altro delle ultime elezioni l'intervista a cat e fretti l'ex fidanzata il pilota moto gp simoncelli dice i miei dieci anni senza marco perso penso a lui ogni giorno e anche l'attacco hacker sono stati rubati alla siae i dati dei cantanti loro intanto riferiscono non paghiamo la repubblica in taglio alto si parla di materie prime e chip l'ingorgo globale delle merci mentre poi il titolo che la fa da padrone oggi è questo delle pensioni draghi tira dritto sette giorni per l'intesa sindacati e lega che bocciano la proposta del governo per uscire chiaramente da quota 100 ma palazzo chigeo quindi va a confermare il testo ultima settimana per trattare prima poi del varo in consiglio dei ministri che seguiremo con la nostra informazione molto attentamente battiston dice grazie al green pass emergono contagi sommersi che altrimenti non avremmo così evidenziato uniti su maggioritario e colle forza italia la rivolta dei ministri e ancora brescia uccisa martellate dall'ex finanzia dall'ex fidanzato grave notizia di cronaca chiudiamo con la stampa si torna sull'argomento pensioni no dei sindacati quota 102 è una presa in giro questo la loro denuncia infine ultima cosa la mia mayen ancora pallavolista diciottenne decapitata dai talebani e con questo allora torniamo un attimino con i nostri telespettatori ricordiamo ancora una volta la notizia con la quale abbiamo aperto l'informazione di oggi questa mattina la scossa di terremoto alle 2 28 della notte a 5 chilometri sud est da zullio tra i comuni proprio di zullio e tolmezzo diverse le chiamate le centrali dei vigili del fuoco sono in corso alla verifica di eventuali danni non gravi ma non si registrano fortunatamente persone ferite parliamo di una scossa di 3.7 alle 2 e 28 della notte se ci sono aggiornamenti li seguiremo durante tutta la rassegna stampa in tempo reale ve li riferiremo voi se volete scriverci contattarci inviarci un messaggino sugli argomenti che già abbiamo affrontato insieme che ora andremo ad approfondire tra poco fatelo pure 327 94 39 500 74 ci fermiamo solo un attimo e poi sarà ancora news cappuccino e brioche allora torniamo sul messaggero andiamo ad approfondire i vari argomenti mentre gli amici che ci seguono in televisione si prendono una piccola e breve pausa penso di un minuto minuto e mezzo mediamente allora andiamo ad aprire un po tutte le app che vedo già tanti messaggi che continuano ad arrivare buongiorno roberto grazie ho sentito il terremoto abito vicino a paluzza che è luisa grazie luisa che mi scrive in tv beh adesso non mi sta sentendo ma tra un po andrò a ringraziarle in televisione poi andiamo ad aprire invece le app per quanto riguarda facebook ricordiamo che siamo presenti anche in streaming nel sito buongiorno mariana ciao cara grazie per le stelle buongiorno a tutti ciao roberto da maniago mi dice florence come sempre premio fedeltà anche a lei e mariana che mi sostiene da settimane settimane se non mesi è vero cara dario dario tonuti è con noi buongiorno roberto poi ancora tanti altri no vax falsi dice vaccino sperimentale tanti altri che non credono nella vaccinazione poi abbiamo deria buongiorno no green pass mamma mia di mattina presto iniziamo a dire no green pass concedetemi una battuta dai allora micaela purtroppo si sa cosa c'è dentro non promette niente di buono e poi ancora altri messaggi come quello di sca manu che è un semplice saluto ma che contraccambiamo ciao manu buongiorno a tutti dice anche vania buona giornata buongiorno roberto ciao vanna no vania scusa mi ho sbagliato il nome ciao vanna abbiamo patrizia collegata con noi patrizia chiandussi citalbondi buongiorno anche a te cara marina giulia di battista ci saluta tanti tantissimi buongiorno oggi ed è bello vedervi tutti collegati con noi allora adesso ripartiamo in tv mancano pochi secondi ulteriori aggiornamenti sulla scossa di terremoto e andiamo proprio in diretta anche sul digitale torniamo live allora news cappuccino brosce dopo questa breve pausa buongiorno buona giornata anche i telespettatori che già sono collegati con noi siamo live in diretta ormai da circa un quarto d'ora per quanto riguarda news cappuccino brosce l'informazione in diretta insieme ai nostri telespettatori con la possibilità di scriverci ed interagire rispetto anche agli argomenti che affrontiamo insieme questa mattina lo ripetiamo poi ci aggiorneremo meglio durante la trasmissione abbiamo aperto ancora con la forte scossa di terremoto registrata avvertita nettamente da tanti anche persone che ci hanno già scritto e continuano a scriverci come luisa che dice buongiorno a roberto sono stata svegliata dalla scossa mi abito vicino a paluzza grazie per la precisa informazione salutiamo diamo il buongiorno a luisa che ci scrive per la prima volta che abita proprio vicino a paluzza e riferisce testimonia di aver sentito proprio il terremoto di 3.7 del quale al momento le centrali ci riferiscono non esserci persone ferite ma è in corso una stima valutazione anche di eventuali danni detto questo continuate pure a scriverci noi procediamo invece con i principali argomenti del giorno circa la nostra rassegna stampa andiamo con la sentenza del consiglio di stato perché oggi occupa le prime pagine dei quotidiani dedicola allora andiamo a vedere riassumere che cosa dice il consiglio di stato l'obbligo vaccinale per i sanitari è legittimo in pandemia va imposto questo si legge nella sentenza contro medici paramedici infermieri in questo caso che avevano fatto un ricorso proprio nella nostra regione fvg prevale ancora sostengono il principio di solidarietà sull'autodeterminazione illegale dei ricorrenti ricorda abbiamo fatto breccia d'ora in poi ci si misurerà sul merito insomma questo è quanto oggi viene riferito circa obbligo vaccinale per il personale sanitario che si dice legittimo non solo per tutelare i più vulnerabili durante un'emergenza pandemica il legislatore si legge ha il dovere di promuovere se necessario imporre la somministrazione di quell'unica terapia quella profilattica in grado di prevenire la malattia o quanto meno scongiurare i sintomi più gravi ancora sotto invece andiamo per quanto riguarda altre notizie legate sempre a vaccinazione parliamo da giorni e giorni se non da settimane del green pass il compromesso serve il green pass e l'austra offre il test gratuito anche ai novax questo è quanto si legge in merito proprio anche a questa novità che viene riportata distribuita dal giornale ma la situazione a trieste che poi analizzeremo solo in un secondo momento mediante il quotidiano il piccolo lo citiamo brevemente a trieste oltre metà dei nuovi positivi ieri superata la quota dei 20.000 tamponi vedete come proprio veramente sono quintuplicati i tamponi test in regione fvg da quando è scattato l'obbligo del green pass al lavoro poi roga poi invece il super bonus cambiando argomento le riserve dei costruttori escluse ville villette contesti del lancio dice dovendo rinunciare a qualcosa meglio tagliare le case singole e tilatti di confertigianato la norma va rivista o si creano cittadini di serie a e di serie b previsto pure un taglio delle tasse delle bollette ci saranno misure più severe per riceve per chi riceve il reddito di cittadinanza che verrà quindi riconfermato ci sarà ma ci saranno quindi nuove regole anche un nuovo tetto per quanto riguarda il percepire lo stesso bonus quota 102 104 lo stop dei sindacati rispetto il sistema previdenziale pizzo della cisle dice così come formulate le proposte non sono accettabili cattarossi in as penalizzati quelli che sono nati nel 1960 ancora che pizzo stesso dice mi auguro che non si ripetano gli errori fatti dieci anni fa da monti e dalla fornero questo è il suo invito il suo auspicio che tutto non torni come già avevamo visto ma si parla molto molto di pensioni anche livello nazionale rivediamo insieme il titolo attacco dei sindacati a quota 102 una vera e propria presa in giro che non serve al paese landini chiede un incontro con il premier draghi e poi orlando che sostiene bisogna attenuare il ritorno alla fornero l'ox va a dire ancora giù le spese andiamo saltando un po di informazione nazionale un po di politica perché non abbiamo il tempo di occuparci ne torniamo anche per quanto riguarda gli argomenti che stiamo affrontando molto in questi giorni farmacie guardate che la situazione è severa c'è uno stato di attenzione soprattutto per le stesse strutture che ancora si dicono in difficoltà nel continuare incessantemente a derogare i tamponi anche fuori orario riporta il quotidiano draghi sui vaccini siamo primi però nell'unione europea rallenta la corsa alla prima dose abbiamo questo boom di test soprattutto test antigenici rapidi nelle farmacie e costa che dice puntiamo ad aumentare le capienze se allargano pure gli orari anche se a detta degli stessi gestori delle farmacie titolari non basterebbe per riuscire a soddisfare le richieste di migliaia di persone proprio in questi giorni per avere il test quanti insomma non sono ancora vaccinati uno scontro ieri in friuli venezia giulio uno scontro politico dalle portatrici carniche alle foibe è polemica con l'assessore gibelli abbiamo l'attacco proprio registrato in aula da parte per quanto riguarda onsel sul caso kv e il salone del libro di torino per il quale appunto non avrà accesso la casa editrice la grande guerra torna ora in commissione grande guerra portatrici come abbiamo letto carniche e la non presenza della casa editrice kv nello stand della regione al salone del libro hanno alimentato accuse reciproche proprio tra i due che sono appunto l'assessore alla cultura gibe gibelli e l'opposizione soprattutto con l'ex sindaco di udine furio onse le motivazioni le abbiamo appena viste assieme noi allora procediamo spediti prima di andare a parlare anche di trasporti perché sia gazzettino che messaggero oggi fanno un focus particolare sulla situazione d'emergenza dovuto al trasporto per l'assenza di troppi troppi autisti novax che mettono in crisi anche le corse ci spostiamo nel quotidiano il piccolo andiamo insomma a trieste continuiamo a parlare anche di ancora situazioni importanti partendo dall'evento legato ai due presidenti oggi è il giorno proprio dell'arrivo di mattarella pacco a gorizia e nova gorizza per lanciare questa capitale 2025 abbiamo il sindaco di gorizza rodolfo ziberna che dice è una straordinaria opportunità e poi il collega miclavici che dice noi realtà trasfrontaliera si parla molto oggi sia dell'evento ma anche tutto ciò che è legato alla sicurezza per lo stesso un'immagine che arriva direttamente da piazza unità con le persone così concentrate raccolte anche in momenti di yoga ed altri ancora che si sono appunto succeduti nella successi nella giornata di ieri proprio in pincità a trieste stiamo parlando ancora di no green pass novax e altro intanto il prefetto valerio valenti di trieste dice sono attese 20.000 persone al corteo di venerdì abbiamo però il rischio di infiltrati violenti cosiddetti black box che secondo fonti di polizia potrebbero arrivare in città trieste tra venerdì sabato e domenica con non si escludono ancora focolai per quanto riguarda la minaccia di guerriglia urbana la previsione della prefettura dice in vista del raduno con partecipanti che potrebbero arrivare da tutta italia di piazza dice prenderemo presto misure per evitare che fatti così si ripetano vedremo seguiremo insieme insomma che cosa succederà a trieste auspicando che non ci sia nulla di grave in merito detto questo abbiamo però la situazione legata come dicevamo non l'avevamo approfondito perché lo riporta bene oggi il quotidiano il piccolo l'impennata di covid 19 a trieste già lo riferivamo da circa sette giorni quando avevamo letto appunto lo stesso bollettino che riportava un aumento di 4 5 volte i casi rispetto alle province di udine e pordenone traina così il contagio in regione fvg quello che succede a trieste saranno destinati a salire dicono gli esperti l'analisi è stata fatta da parte del vice governatore riccardi che ha presentato esposto i dati in aula riportando anche come trieste abbia un record in negativo di non vaccinati sull'aumento di positivi nel capoluogo giuliano pesano molto l'età media abbiamo una popolazione molto anziana trieste rispetto anche alle altre città della regione anche questo incide poi una bassa bassa percentuale di persone vaccinate ieri intanto abbiamo avuto 114 nuovi casi di covid 19 ma per completezza ricordiamo anche che abbiamo quintuplicato quindi ci sono veramente un sacco di tamponi oltre 20.000 anche ieri davvero davvero tanti questo ancora l'obbligo vaccinale per i sanitari è legittimo l'abbiamo già riferito quindi procediamo spediti andiamo nella vicina slovenia solo a leggere il titolo velocemente perché il tasso di contagio riporta il quotidiano a sal addirittura oltre al 30 per cento se in friuli spesso non tocchiamo non superiamo l'uno l'uno e mezzo per cento del contagio la situazione in slovenia davvero è diciamo molto lontana da quello che succede da noi non si ferma questa pandemia da covid che ha una recrudescenza importante nello stato vicino a noi per ora nessuna chiusura non abbiamo lockdown o zone rosse in slovenia ma cresce l'infezione intanto parallelamente pure in croazia questo sono le notizie che ci arrivano proprio da oltre confine abbiamo il rebus della previdenza del quale abbiamo già parlato quota 102 tutte le parole e dichiarazioni da parte dei sindacati chiudiamo l'informazione di trieste andando un po a vedere cosa si dice per quanto concerne i partiti che stando vagliando i nomi in giunta ci sono conferme desordienti la partita per 10 posti in ballo dai 5 papabili per due assessorati forza italia i 4 di fd che avrà pure il vice di piazza pagina accanto altri commenti considerazioni la comunità ha rappresentanti 3 nel pd dopo anni nessun eletto nella slovenska come si dice nell'aula municipale e poi diverse interviste che non approfondiamo andiamo invece con la cronaca lo strano caso di un'imbarcazione di oltre 11 metri che viene rubata senza che nessuno se ne accorga ora sono al vaglio tutte le immagini registrate grazie alle telecamere di video sorveglianza parliamo di questa imbarcazione di 11 metri rubata nel cuore della notte nel porticciolo di grignano il proprietario del natante si trovava proprio ormeggiato sul pontile galleggiante lui è un facoltoso austriaco proprio socio della sng sul furto ora stanno indagando i carabinieri ma intanto sappiamo che hanno agito nell'oscurità indisturbati nessuno ha sentito almeno ho visto nulla non ci sono testimonianze abbiamo pure l'appello invece di servola cambiando argomento chiedono chiarezza sulle due aggressioni avvenute proprio nel rione quanti vivono e lavorano in zona chiedono tempi rapidi agli inquirenti ciò che è accaduto ancora riportano ci toglie tutta la serenità abbiamo oggi un inserto all'interno del quotidiano il piccolo poi le culture e quindi siamo pronti per andare anche nel goriziano ci spostiamo ancora un paio di minuti perché l'abbiamo già visto principalmente oggi tutto incentrato sul grande evento l'arrivo ancora del presidente proprio in città a gorizia e nova gorizia per l'abbraccio di questi due presidenti che abbiamo già visto nel quotidiano il piccolo nell'edizione proprio quella legata alla città di trieste noi però procediamo andiamo anche all'interno a vedere le principali pure cronache che arrivano dalla stessa gorizia si parte dalla torre dell'orologio che dicono va rinforzata una variante sul restauro del castello in corso d'opera si è evidenziata la necessità di intervenire in maniera strutturale sul solaio la struttura è stata prescelta per ospitare la futura biglietteria ci saranno poi manutenzioni anche alle coperture vediamo alcune immagini circa la torre dell'orologio eccola qui a destra lo stato delle travature in legno nelle foto che appaiono proprio sul progetto che è stato esposto all'albo pretorio del comune l'edilizia scolastica a novembre il rientro della ferretti in via zara si era parlato di ottombre ma vanno completati i lavori sulla copertura della scuola slittera di qualche settimana il rientro introdotto intanto il servizio bus per villa ritter del sordi che dice attinto dal fondo di riserva terlau ancora vigolin andiamo a vedere la notizia per quanto riguarda anche coco quando la disabilità non è più un ostacolo il premio regionale della solidarietà anno 2021 al ciclista paralimpico e a due neolaureati andrà una targa riconoscimenti pure anche ad associazioni aziende e volontari oggi se ne parla molto e come abbiamo letto insieme nel titolo vediamo anche l'immagine che ci riporta proprio maria chiara coco dopo la sua laura rispetto alla news della disabilità quando almeno la disabilità non è un ostacolo e si riescono a ottenere obiettivi raggiungere molto importanti il commissario straordinario siamo a monfalcone per quanto riguarda dragaggi la regione è pronta a varare un ufficio unico con la collaborazione del consorzio di sviluppo economico e anche con quello proprio di bonifica c'è già il totonomi e tra i candidati spunta pure un ex ammiraglio che è andato in pensione procediamo ancora con l'izzontino anzi andiamo a chiudere controlli in green pass andiamo con la cronaca per quanto riguarda le verifiche in centro dalle sette gli ambulanti tutti regolari questo è un po il report che arriva dalla polizia locale verifiche su una quarantina di operatori al primo mercato dalle entrate in vigore della nuova normativa sul lavoro non ci sono state fortunatamente delle criticità chiudiamo invece con grado ultima cosa che vediamo insieme è questa circa il terzo anno cantiere anti allagamento festa delle varvole a rischio in piazza in iris acqua sta predisponendo tutto il rifacimento dell'impianto di deflusso delle acque piovane anche quest'anno non ci sarà nessun evento in porto così almeno vanno oggi ad annunciare abbiamo qualche minuto di ritardo allora ci fermiamo subito per una breve pausa ancora buongiorno alle persone collegate con noi una buona giornata news cappuccino e briocio e ritorna tra poco andremo proprio nel gazzettino e parleremo di trasporti caos circa la mancanza di autisti non vaccinati lo approfondiamo tra pochissimo se volete interagire con noi commentare 3 2 7 9 4 3 9 5 7 4 a tra poco allora vediamo se ci sono aggiornamenti circa la scossa di terremoto se ci sono altre cose che ci stanno arrivando allora si ci arrivano un sacco di messaggi per quanto riguarda le persone che lo hanno percepito ma dalle sale ancora non ci sono novità fortunatamente meglio così perché significa appunto che non ci sono feriti come confermato inizialmente allora in tv abbiamo un attimo di pausa quindi anch'io respiro un momentino e rallento il ritmo prepariamo pure il gazzettino dove ci sposteremo infatti tra poco per quanto riguarda l'informazione diamo il buongiorno però anche a coloro che sono sui social che continuano a seguirci mentre in tv abbiamo un attimo di pausa saluto tutti ancora silvia dice che differenza c'è tra influenza stagionale covid e che passa tutto per covid dice silvia beh non è proprio esattamente così silvia ma non siamo qui a parlare di scienza va bene questa è la rassegna stampa grazie comunque per il messaggino vediamo se c'è qualcuno che ti risponderà sarà natali la scossa a zuglio 7 chilometri a tolmezzo 2 28 una bella scassatina poi una piccola di una più piccola moggio grazie sarà pedrazzoli sarà ci comunica ancora circa la notizia della scossa che abbiamo dato questa mattina in apertura alle 6 e 30 e anche lei ci conferma per quanto riguarda questa scossa che è stata registrata a zuglio siamo 5 chilometri sud est da zuglio a 7 dato il mezzo quindi siamo a cavallo un po sarà tra i due di che grado chiede cristina cristina di grado 3.7 adesso guarda lo ribadiamo mentre torniamo in tv sul canale 11 se volete ci potete seguire anche da lì ancora news cappuccino e broscia si torna in diretta siamo live da 33 minuti in questo istante diamo il benvenuto ben collegati a quanti ci hanno raggiunto in questi minuti molti infatti ci segnalano lo leggiamo nei vostri messaggi che stanno rientrando dal turno di lavoro notturno sappiamo un po tutti gli spostamenti delle persone che ci seguono sul canale 11 allora buon riposo se siete rientrati per quanto riguarda chi ha lavorato questa notte come Giancarlo che ci ha scritto adesso da Pordenone dice Roberto buongiorno mi sono collegato qualche minuto fa rientrato dal turno notturno in azienda è sempre un piacere seguirvi grazie Giancarlo quindi ben collegato e poi un buon riposo se deciderai quindi anche di giustamente riposare dopo il lavoro tanti messaggi circa la scossa di terremoto lo ripetiamo per le persone collegate con noi più tardi questa notte alle ore 2.28 della notte a 5 chilometri sud est da Zulio a 7 da Tolmezzo tra i comuni quindi di Tolmezzo e Zulio in provincia di Udi nella nostra montagna si è registrato una scossa di 3.7 un terremoto che è stato nettamente avvertito dalla popolazione locale ma in tutta la provincia fino addirittura al medio Friuli stando i messaggi che continuano ad arrivare che non ha registrato feriti sono in corso di quantificazione ancora eventuali danni strutturali o ad eventuali abitazioni in merito ci scrive l'ultimo messaggio in arrivo è quello di Sara Pedrazzoli che dice la scossa a Zulio a 7 chilometri da Tolmezzo alle 2.28 una bella scassatina poi però un'altra più piccola a Moggio grazie Sara anche lei per la precisazione che è intervenuta in merito vi teremo informati intanto andiamo invece con l'informazione che arriva dal gazzettino della regione stiamo registrando disagi circa le terze dosi di vaccino che però sono in ritardo così si dice addio alle visite nelle case di riposo l'allarme arriva direttamente dai direttori delle strutture che dicono siamo costretti a chiudere le nostre porte a mancare sono le fiale pure dell'anti influenzale da binare i prodotti usati contro il covid oggi si parla di questo clima che si è fatto molto teso non c'entrano i novax picchetti manifestazioni nulla a che fare con questo lo diciamo a scanso di equivoci qui stiamo parlando insomma di una protesta che arriva in questo caso da luoghi insospettabili dove l'unica preoccupazione di solito è quella di proteggere i più debili i più fragili rsa e casi di riposo che hanno e registrano denunciano la mancanza della terza dose poi si passa direttamente al bollettino del contagio ieri riccardi l'abbiamo analizzato il messaggero per chi non era collegato con noi in aula ha riferito qual è la situazione del contagio in regione ha spiegato molto bene come ora l'incidenza e la preoccupazione tensione si registra a trieste circa questo balzo in avanti nella registrazione del covid 19 soprattutto tra una popolazione molto anziana come sappiamo vigile a trieste ma ancora con il minor numero di persone vaccinate nel capoluogo giuliano ieri 114 casi nessuna vittima nelle 24 ore ricoveri in terapia intensiva che sono sempre stabili la situazione ospedaliera e che quella che conta sappiamo poi quella che incide anche sul peso eventuali cambi fascia di regione rimane sempre al minimo 7 le persone in terapia intensiva anche se abbiamo avuto un lieve aumento delle persone ricoverate nelle malattie infettive che salgono a 49 rispetto alle 39 di qualche giorno fa ma diciamo andiamolo riassumere anche dando voce al gazzettino nel titolo lo leggiamo insieme riccardi contagi in salita trieste sono presenti meno vaccinati la crescita dell'incidenza da covid è collegata in prevalenza all'aumento dei casi registrati a trieste dovuto alla più bassa percentuale di vaccinazione rispetto alla media regionale ma anche nettamente legato all'età media della popolazione a trieste che è molto più alta di altre province come potrebbe essere ad esempio quella di udine e pordenone poi avevamo anticipato che avremmo parlato ancora dei disagi circa i trasporti abbiamo molti autisti non vaccinati per quanto concerne proprio questo argomento abbiamo un piano vero e proprio d'urgenza anti disagio 27 per cento sono questi autisti ancora che non sono in possesso della certificazione dal 15 ottobre sono già saltate 2313 corse ora arrivano i mezzi privati a noleggio la regione si sta impegnando quindi a noleggiare dei mezzi per sostituire e ancora andare a rimpiazzare così magari brutto dire questo termine ma veramente sostituire tutti gli autisti coloro che non hanno il certificato e non garantiscono le corse che in questo momento sono assolutamente necessarie si parla poi del gigante di buttreo così definito alla danieli nessun fermo alla produzione causato dal pass quindi ci sono notizie rassicuranti confortanti dalla stessa azienda che dice la produzione continua così anche anche per quanto riguarda l'accesso degli operai lavoratori quasi al 100 per cento proseguono la produzione nella stessa attività anche grazie a un numero esiguo di dipendenti che sono sprovvisti della certificazione verde sanitaria poi si parla di una scarsissima adesione allo sciopero di venerdì scorso bene per quanto riguarda quindi il gruppo danieli e ancora l'analisi un questionario per misurare l'impatto della pandemia sulla vita delle persone ci sono 73 domande suddivise in otto sezioni per capire un po l'impatto di questa pandemia sulle vite di studenti lavoratori e cittadini se ne stanno proprio occupando nuova iniziativa lanciata dalla commissione per le pari opportunità sono loro a lanciarla ed ora andiamo alle giostre ma ci andremo con il green pass questa è la notizia successiva del gazzettino quindi se la pandemia lo scorso anno aveva fatto saltare il divertimento per i più piccoli legato a santa caterina quest'anno ci sarà ma sarà obbligatorio esibire il qr code dopo lo stop imposto dal covid in piazza primo maggio a udine ci sarà il luna park dal 30 ottobre le bancarelle rimaranno in città per quattro giorni a disposizione anche per soprattutto dei più piccoli ma bisognerà come vedevo come vedevamo scusate sarà obbligatorio esibire il certificato dopo lo stop proprio dello scorso anno tornano a santa caterina luna park per quanto riguarda giostre partire dal 30 poi abbiamo tutto il piano legato alla sicurezza e alla viabilità che ieri proprio alessandro ciani ha fatto sapere alle testate con un comunicato andando così poi trovate proprio all'interno del gazzettino per chi decide di acquistare in edicola tutte le vie e quali potrebbero essere i principali disagi per le persone deviazioni per consentire ancora l'allestimento del luna park la riabilitazione si parla di sanità in regione ma in particolare a udine i tempi sono stati azzerati l'assessore riccardi ha fatto il punto anche sulle attese per i pazienti colpiti da ictus l'indagine sollecitata dalla consigliera liguori dopo le segnalazioni pure dei pazienti si dice così nelle prime righe del gazzettino all'ospedale di udine tempi di attesa medi per gli ultimi in tre interventi di chirurgia urologica in persone oncologiche sottoposte a terapia neodiuvante sono stati di 36 giorni questo è un po il tempo d'attesa medio che oggi viene divulgato e poi andiamo alla tragedia cosa succede tra una lezione e l'altra si accascia a terra davanti i propri studenti e perde la vita si tratta di un prof delle medie che purtroppo dopo l'ora di lezione è stato stroncato da un malore improvviso parliamo di mal di paolo batello 62 anni insegnava a tercento tutti i colleghi e ragazzi sotto shock per quanto accaduto immediata la chiamata il numero unico dell'emergenza è l'112 la sores ha inviato sul posto proprio gli operatori sanitari che non hanno potuto fare altro dopo un tentativo di ranimazione di constatare il decesso del professore di 62 anni tutto questo è successo per quanto riguarda il dramma a tercento nella mattinata alla scuola media colpito quindi l'uomo paolo batello 62 anni secondo quanto emerso si è accasciato al suolo in prossimità del cambio orario dopo essere stato colpito con ogni probabilità da un infarto che non gli ha lasciato scampo ancora condoglianza alla famiglia gli studenti ai colleghi tra l'altro abbiamo letto sotto shock per questa brutta cosa che si è registrata ieri proprio alle scuole medie andiamo con la rotta balcanica ci sono più di 8 mila migranti da inizio dell'anno ancora ne abbiamo detto lo abbiamo riferito molte volte ma andiamo invece con i nuovi patti subito soldi alla sanità abbiamo la revisione circa gli accordi con roma ci sono 55 milioni di euro diciamo iniettati così già a novembre per migliorare la situazione dei nostri ospedali vediamo l'immagine della zilli la barbara a tutto campo dice ottime possibilità anche per i contributi circa la casa la famiglia e anche il sistema dei trasporti ora parliamo di fidenato si torna in provincia di pordenone anticipiamo un po' quelle che saranno le notizie che vedremo un po' nell'edizione del gazzettino di pordenone o gm l'imprenditore di arba non molla continua lui dice finché il caso non sarà dibattito davanti dibattuto davanti alla corte di giustizia europea pronto per l'ennesimo ricorso al tar non so se ho ragione riferisce ma sulla direttiva spetta il giudice naturale la decisione piante dice la nota vediamola insieme coltivate a collo redo sono state trinciate successivamente il terreno è stato pure aerato nulla da fare per lui ancora la semina del 2021 che è stato oggetto di un'interrogazione parlamentare e poi anche portata in commissione questo per quanto riguarda fidenato e allora ci prendiamo solo l'ultima pausa un momentino diamo la possibilità le persone che ci seguono di andare così a fare colazione prepariamo la macchinetta del caffè perché anche ancora non l'ha fatto diamo il buon rientro a chi ha lavorato questa notte allora dai piccola pausa poi andiamo con il messaggero veneto di udine ancora tanta l'informazione partiremo dalla città analizzeremo un po tutta la provincia a ci aggiorneremo in merito alla scossa di terremoto questa notte lo ripetiamo perché si è collegato tardi alle 2 28 tra i comuni di tolmezzo e zuglio abbiamo avuto questa scossa di 3.7 che non ha registrato non ha portato feriti fortunatamente ancora però stanno valutando eventuali danni con diverse le chiamate ai vigili del fuoco ci aggiorneremo tra poco allora andiamo con l'ultimo break allora andiamo in buongiorno ancora le persone collegate con noi intanto mentre ci prendiamo l'ultima pausa approfittiamo per preparare l'edizione del portionese per quanto riguarda il gazzettino dove poi andremo in ultimo per chiudere il cerchio circa l'informazione che arriva pure da quella provincia salutando anche le persone collegate con noi ho visto diversi da cordenons maniagolet un sacco di messaggi proprio da queste zone che sono collegate con noi perché a cordenone dovremo parlare ancora di una ennesima tragedia uno schianto in moto la persona che muore a 41 anni ma ne parleremo tra un po' perché ripartiremo dalla provincia di udine con il caos legato ai trasporti allora saluto analisa che collegata con noi analisa buongiorno da gradisca di sonzo dice buongiorno roberto dov'è mi è sfuggito il messaggio perché ne è arrivato un altro sopra il suo questo sistema è micidiale che ogni volta che una persona scrive ci oscura il messaggio eccola lì analisa roberto buongiorno ti scrivo da gradisca di sonzo collegata a tutti i giorni grazie per l'informazione sono seriamente preoccupata per quello che può succedere a trieste ecco lei ci fa un accenno rispetto a quello che abbiamo letto nel quotidiano il piccolo quando il prefetto valenti lo ripetiamo dice sono attesa a trieste venerdì un corteo almeno 20.000 persone e la preoccupazione è che tra queste ci sarà un'infiltrazione secondo fonti di polizia loro lo riferiscono di persone violente che sarebbero determinate e arrivando da altre regioni proprio ad andare a instaurare così aveva da prendere una una sorta di guerriglia urbana con la polizia questo è quanto riferisce ancora perfetto e polizia speriamo che tutto ciò non accada e abbiamo letto la preoccupazione della nostra telespettatrice da gradisca abbiamo tanti altri collegati con noi adesso tiziano mi dice che ripartiremo tra poco davis ciao davis buongiorno da zano decimo eccola lì nella provincia di pordenone che abbiamo appena nominato allora andiamo andiamo con l'ultimo blocco dai ancora un quarto d'ora circa siamo se volete anche sul canale 11 del digitale ultimo spazio per news e cappuccino grosso per l'edizione odierna chiaramente per la nostra rassegna stampa ancora circa una dozzina di minuti insieme per andare a vedere la provincia di udine partendo dalla città e poi ancora soprattutto la provincia di pordenone perché vi annunciamo che dobbiamo raccontare una tragedia in provincia per quanto riguarda lo schianto in moto ieri contro un'auto dove è perso la vita un 41enne ci occupiamo davvero tra pochi minuti intanto diamo ancora il bentrovato alle persone collegate con noi molti ci stanno segnalando di aver nettamente avvertito la scossa di terremoto come ci fa sapere anche in questo caso Elisa che ci segue invece dato il mezzo dice Roberto buongiorno questa notte sono stata svegliata dalla scossa che spavento ma qui nulla di grave grazie allora anche a questi messaggi preziosi di testimonianza che ci stanno riportando come non ci sia una gravità della situazione dove c'è stata la scossa di 3.7 ma che un gran spavento sicuramente ha colto le persone soprattutto nelle zone della provincia di udine e in montagna allora grazie a voi continuate a scriverci se volete il numero è in sovimpressione andiamo con il caos per i trasporti senza green pass sono almeno 77 autisti arriva taglia 600 corse 29 per cento dei conducenti non ha il certificato o è assente per malattia proprio ieri abbiamo così approfondito lo strano caso questo strano così rialzo delle persone che si mettono in malattia come ci hanno riferito anche dall'ordine dei medici con il boom che ha sfiorato quasi un 30 per cento di persone ammalate dall'entrata in vigore del green pass per il lavoro soppresso quindi un viaggio su 5 tante ci dicono le corse cancellate numeri alla mano significa che ogni giorno vengono cancellate 600 corse in regione tra urbane ed exturbane questo è quello che oggi vanno a dire noi l'abbiamo riassunto ma questo dato è davvero significativo lo ripetiamo 600 corse cancellate quotidianamente perché mancano il 30 per cento degli autisti tra malattia e no vax ospedale si procede denis caporale il direttore generale dell'asuc vuole andare fino in fondo per quanto riguarda operatori non vaccinati sospesi altri 50 sanitari lo stop interessa dipendenti dell'asuc altri ulteriori sono arrivati ieri proprio nelle ultime ore 15 nuovi nomi sono sul tavolo dell'ordine delle professioni infermieristiche e mediche ma ancora verranno quindi attuate le pec di avviso e sospensione in questi minuti in queste ore oggi sospesi ulteriormente si dice altri 15 provvedimenti saranno notificati proprio adesso in questi giorni l'azienda frulli centrale fa i conti anche con lo stop del personale sanitario che ha deciso di non ottemperare all'obbligo vaccinale tentando di tamponare ci sono molte assenze per malattia in asuf proprio a partire in particolare dal 15 ottobre ma questo non fermerà la sospensione anche quanti si dicono malati comunque avranno l'effetto immediato per quanto riguarda il loro taglio del posto di lavoro ma soprattutto anche lo stipendio finché non andranno a ricevere la vaccinazione così come previsto dal governo ai 50 dipendenti dell'asub che risultavano interdette ieri si aggiungono nelle prossime ore altri 15 operatori per il quale l'iter sfocia nel provvedimento di sospensione il loro nome è già sul tavolo dell'ordine professionale di appartenenza detto questo procediamo allora andiamo con alta informazione per quanto riguarda la provincia di Udine saltando un pochino l'inserto all'interno andiamo direttamente invece in montagna oltre alla notizia del terremoto delle ore 2.28 di questa notte che abbiamo già riferito più volte andiamo a Tolmezzo le giostre cancellano 150 stalli residenti e pendolari ora protestano installate le attrazioni del Luna Park in via Gortani restano fino all'8 novembre polemiche per la carenza anche di parcheggi legate in particolare al cantiere di largo delle foibe e ancora invece a Villa Santina Banca Intesa San Paolo chiude due filiali parte la raccolta pure delle firme l'abbiamo già visto ma lo ripetiamo partendo proprio dalle immagini per quanto riguarda Fidenato il Campi lo GM e la distruzione di quanto seminato leggiamo il titolo allora per riassumere distrutto il mais transgenico Fidenato io non mi fermo è stata eseguita ieri questa ordinanza che riguardava 7.500 metri quadrati l'agricoltore dice seminerò fino al pronunciamento della Corte di Giustizia Europea ma come dicevamo l'avevamo analizzato poc'anzi prima della pausa anche nel gazzettino così come torniamo tra l'altro a Tarcento per la tragedia davanti ai colleghi agli studenti termina la lezione all'interno della propria classe nella scuola media l'uomo si accascia e muore stiamo parlando del 62enne Paolo Batello di Gemona del Friuli che si è accasciato nell'aula deserta prima della lezione di educazione tecnica alle medie si stava proprio preparando per iniziare una nuova lezione ma è stato colto da malore lui Paolo è scomparso in questo modo improvviso ieri mattina l'insegnante di tecnologie alle medie di Tarcento che era arrivato come al solito nel plesso scolastico che si trova in via Pascoli andiamo avanti dopo la cronaca invece si riparte per quanto concerne il caso autostazione siamo a Tarcento Tomada tira in ballo fratelli d'Italia l'attacco vedremo se cambierete idea la replica pure di Beltrame che dice non dividirete la maggioranza sotto flash in breve Cividale del Friuli fecero riscoprire i Longobardi l'omaggio a Brozzi e Tagliaferri a Bertiolo oggi ritorno in aula pure con diversi lavori da ultimare ci spostiamo nella bassa in questo caso siamo a Palmanova debutta il consiglio delle Rattellini dice sarà un sindaco vicino ai più fragili questo l'annuncio per quanto riguarda successore di Martinez che si è ufficialmente insiedato ha così illustrato in aula tutto il programma tra i punti centrali a Palmanova del mandato ci saranno ospedale, servizi sul territorio e le frazioni dice questo sarà di cui soprattutto andrò ad occuparmi nel mio mandato e poi ancora cronaca per quanto riguardano ulteriori aggiornamenti da Aquileia, aveva ucciso la moglie, ora parla il figlio mia madre viveva barricata oggi si parla di un disagio già presente da tempo al processo a carico di Livio Duca ha ne ricordato pure l'ultima telefonata prima di quel delitto sentite anche le due amiche proprio di famiglia che hanno escluso sia un uomo violento ma la situazione dice sta diventando ingestibile mi sento in pericolo se lo ricorda ancora Daniele con queste parole dice la mamma gliele disse nel corso di una telefonata che è bentorno alle 10 proprio del 22 settembre del 2020 quasi insomma ad anticipare quello che poi sarebbe successo ad Aquileia a San Giorgio abbiamo Daniele in Pino Centro una decina di auto guardiamo qui cosa succede sono stati divertiti specchietti rigate le fiancate alle auto in sosta vandali in azione in due serate che così si divertono non sappiamo ancora per quale motivo andare a distruggere le automobili i proprietari chiedono però più sicurezza atti vandalici ad almeno una decina di auto parcheggiate nelle centralissime via Miraglio Canciani via Libertà via Ferrari via Ronchi ma poi anche tante altre che hanno subito danni nella bassa sempre a San Giorgio un commissario per i dragaggi e anche si annuncia un ufficio ad hoc a Torviscosa abbiamo il ricorso al Tardi Monticolo l'abbiamo detto più volte il conteggio dei voti la parità voti che fanno che dice vanno riconteggiati i legali del mancato sindaco si sono rivolti quindi alla giustizia amministrativa si chiede un nuovo spoglio anche delle schede e la modifica è proprio pure del risultato elettorale chiudiamo con la bassa frilana ci sono due notizie che arrivano invece dalla città di Latisana abbiamo la Fiera Mercato Nautiglia sono state registrate 3000 visite nei primi tre giorni dell'evento quindi forte di quasi 3000 presenze proprio nel momento di apertura da sabato a lunedì per la Fiera dell'Usato ad Aprilia Marittima ma ancora poi si riaprirà domani per quanto riguarda la Fiera Mercato Internazionale la sua ricca esposizione di imbarcazioni usate e poi avremo anche un convegno dal titolo Patriota Moderno venuto dal mare ma sempre alla tisana ci rimaniamo perché si parla di Pan di Zucchero l'associazione del quale oggi si riportano un po' tutti i numeri delle loro attività vediamole insieme eccola l'organizzazione di volontariato di Latisana facciamo anche un plauso a loro 50 sono le volontarie sono tre i punti solidali nella città di Latisana Pan di Zucchero per l'infanzia si trova in calle dell'annunziata nuova apertura che ha supportato già circa 100 famiglie con passeggini seggiolini e lettini ancora ma anche il belto dell'usato sempre in viale de calle dell'annunziata ci sono 40.000 euro a 100 famiglie in difficoltà questi gli aiuti erogati nei primi mesi in questi nove mesi del 2021 come spese mediche bollette bonine benzina mensa e anche il trasporto scolastico allora leggiamo il titolo Pan di Zucchero assegna 40.000 euro a 100 famiglie per pagare la spesa e farmaci in questi nove mesi abbiamo visto insieme allora anche quali sono i numeri legati a questa associazione di volontariato ancora con il plauso a loro ora invece andiamo con le notizie quelle tristi quelle che non vorremmo mai dare ci spostiamo in provincia di Pordenone andiamo a vedere la prima pagina che ci riporta una nuova tragedia della strada in Friuli Venezia Giulia lo schianto in moto muore a 41 anni abbiamo avuto ieri l'incidente sulla Pontebana siamo all'altezza del comune di Porcia motociclista che ha colpito in pieno l'auto ed è deceduto sul colpo si indaga per capire la dinamica ma all'origine sembra ci sia stata una mancanza precedenza che ha causato l'urto lo schianto è stato tremendo la moto sulla quale viaggiava appunto è finita contro la macchina andiamo a vedere purtroppo la vittima di chi stiamo parlando di Cristian Ghilardi oggi in prima pagina nel gazzettino del Pordenonese racconta la tragedia della strada l'uomo ha 41 anni che muore contro un'automobile tra un po' andremo a vederlo anche all'interno ma ancora si parla di Novax ci sono tanti tanti autisti senza la certificazione altri sono in malattia dal 15 ottobre il 27% degli autisti con 600 corse cancellate al giorno in regione servizi sociali una sede in ogni quantiere e poi scuole laboratori ma mancano anche i tecnici allora andiamo all'interno abbiamo già visto le principali news dal gazzettino della regione nella prima più o meno parte della nostra trasmissione occupiamoci andiamo a vedere alcune immagini rispetto allo schianto in moto e la persona che muore a 41 anni lui stava guidando una onda è deceduto sul colpo è stato sbalzato dalla sella ha fatto un volo di 22 metri l'incidente è avvenuto sulla Pontebana all'altezza dell'incrocio che porta a Talponedo è probabile una mancata precedenza ma tutta la ricostruzione ora è fidatta ai carabinieri militari forze dell'ordine che stanno cercando di attribuire le responsabilità della morte di Cristian Ghilardi 41 anni che era originario di Milano ma da tempo era residente a Pordenone abitava in via Mantica era un gioielliere l'uomo a causa dei traumi delle profonde ferite riportate è spirato l'impatto è avvenuto nel pomeriggio alle 13 lungo la Pontebana all'altezza dell'hotel Bell si è stato violento l'auto era condotta da una donna di 75 anni poi in stato di shock per quello che è accaduto la donna residente a Fontana Fredda cibi le sue iniziali vediamo quindi chiudiamo con questa tragedia circa anche la così la foto che oggi viene pubblicata per quanto concerne il gazzettino in edicola lo scontro fatale per il motociclista Cristian Gilardi nella foto per quanto riguarda lo schianto sul statale 13 andiamo ancora con altre news che ci arrivano dal Pordenonese scuole ci sono nuovi laboratori cambiamo argomento ora mancano però tecnici docenti questo è un po' l'allarme assenti diversi prof di lingue straniere anche altri di materie scientifiche dicono sarà davvero difficile arrivare fino in fondo abbiamo già analizzato l'OGM per quanto riguarda ancora Fidenato e andiamo invece a Sacile rimaniamo in provincia di Pordenone Riccardi tra 15 giorni l'RSA sarà riaperta notizia importante è l'annuncio del vicepresidente della regione e Consorzio Blu che ha confermato la disponibilità alla regione vediamo che quanto stavano chiedendo come vedevamo tutti i giorni nella nostra assegna con dice non siamo usa e getta potrebbe insomma vedere la luce in fondo al tunnel circa l'annuncio che arriva da Riccardi garantisce che tra un paio di settimane l'RSA di Sacile potrà riaprire finalmente le porte domenica la scoperta dei segreti dell'ivenza rimaniamo in città per i più dinamici visite guidate e giri pure in canoa perché l'assessore Lot annuncia ci saranno proposte a tema che fanno vivere le tante anime del fiume a Maniago invece si parla di Nippo il piano industriale che guarda scuola ambiente recupero di cappannoni abbandonati per ridurre anche il consumo del territorio mentre a Cordenons nella pagina accanto si dice che l'Aldomoro riapre il sipario sulla prosa musica e la danza di De Crescenzo Cristicchi Sinopoli Erika Suss e quattro spettacoli teatrali omaggi poi anche a Morricone e alle notti di Baires domenica ancora bambini e genitori insieme a scuola in bicicletta con questa iniziativa per quanto riguarda invece Porcia chiudiamo con San Vito al Tagliamento siamo qui in questo caso ad Arzene Valvasone niente scuola per i figli della consigliera Novax Susi Infanti si è dimessa dal consiglio anche voi con le mani sporche di sangue dice una lettera molto dura per spiegare la contrarietà a quella che secondo la consigliera si tratta di una dittatura sanitaria così come spesso vengono citati in tanti cortei vediamola insieme pure qui il volto la consigliera Infanti che si è dimessa quindi dal consiglio contro la politica del Green Pass chiaramente per protesta e San Vito giovane patteggia un anno per una tragedia della strada Dennis Quarin aveva 58 anni tecnico elettricista di Rosa che lavorava per un'azienda San Quirino mentre percorreva la provinciale in sella alla sua onda poi quando a San Vito all'altezza dell'elevamento fu centrato da un furgone che era proprio condotto dal 23N e oggi si va a spiegare un po' tutto il caso e il patteggiamento come abbiamo letto nel titolo legato ad un anno con questo allora ci fermiamo siamo insieme da 61 minuti in questo momento oltre un'oretta siamo un po' in ritardo grazie per averci seguito ancora una volta la rassegna stampa si ferma per oggi ma l'informazione chiaramente come sapete poi prosegue grazie per quanti ci hanno contattato e anche per i tantissimi messaggi feedback testimonianze che abbiamo ricevuto in merito alla scossa di terremoto che è stata registrata 3.7 alle 2.28 questa notte tra Zulio e Tolmezzo che non ha causato feriti così come stanno anche a quanto ci stanno riferendo Vigie del Fuoco che hanno ricevuto diverse telefonate ma senza gravi danni è tutto non mi resta che augurarvi una buona giornata non mi resta